Siamo qui con coach Paoletto del Petrarca Padova. Coach, un gran terzo posto conquistato, che torneo è stato? È stata un'esperienza per i ragazzi bellissima perché abbiamo vissuto tre giorni veramente intensi, solo per la canestra, solo partite. I ragazzi sono divertiti e se loro si sono divertiti mi sono divertito anch'io. A livello tecnico com'è stato il torneo? A livello tecnico non serve che lo dica io, ormai da anni che arrivano squadre fortissime a questo torneo. Noi è la prima volta che veniamo e siamo felicissimi di questo. Abbiamo fatto delle partite tutte difficili e sono sicuro che è stata un'esperienza che ci servirà molto in futuro. Grazie. Grazie. Grazie.